Ciao Fabri, Maurizio che piacere vederti, come stai? Bene, direi bene. Vieni aiutami, ti devo far fare un lavoro. Andiamo, dai. Maurizio lui è Ivan, è un cane che stava... da un gruppo di cani, come l'hai dimorso un po' dappertutto. Ho bisogno del tuo aiuto, così me lo tieni e io riesco a fare. Io lo tengo? Certo, ci mancherebbe. Io lo tengo e tu puoi... Una settimana fa ho rischiato la vita, perché le infezioni da morso di cani sono delle migliori. Ora si è un po' ripreso, però è sempre molto spaventato. È uno sguardo fantastico. Ora vediamo come va. Ok, io lo tranquillizzo e tu... Dì che bello, lui lo sa, ma è meglio ripetere. Stai tranquillo Ivan, tranquillo. Grazie Fabri per questa bella esperienza di supporto al tuo lavoro. Per me è stato fondamentale il tuo aiuto, hai visto Ivan? Che cane terribile. Sì, sì, veramente pericoloso. È un cane buonissimo, speriamo abbia fortuna. Come fortuna dovrei avere tutto il pianeta, perché guarda, siamo veramente in condizioni difficili. Io amo gli animali, come sai, la natura, il pianeta. Enegan in questo senso mi rappresenta davvero. Sono felice che tu me l'abbia fatta conoscere davvero. E poi, quest'altra cosa che mi hai detto, che sostiene la ONLUS Safe Planet. Quello per me è un valore aggiunto. È una cosa in cui credo, quindi mi sento assolutamente rappresentato. Sì, nata proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici. Figurati, ora come ora è l'argomento più importante. Speriamo che tutto migliori. Esatto, esatto. Quindi grazie, grazie ancora a te. Grazie a te Fabri. E ci vediamo presto.